La coltivazione di canapa e la bachicoltura da seta nella Val di Chiana Aretina, questi temi conduttori dell'edizione 2018 di Gold Fashion, il progetto nato nel 2012 per valorizzare le tradizionali lavorazioni manifatturiere del territorio, anche attraverso il coinvolgimento degli studenti degli istituti secondari superiori, chiamati a realizzare modelli di abiti ed accessori ispirati al materiale o alla tipologia di lavorazione scelta. Questo è un progetto importante che ha più risvolti positivi. Ovviamente uno di questi è quello di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Poi dal punto di vista economico è importante perché c'è la possibilità di andare a ricercare tutta una serie di eccellenze che in qualche modo, pur proveniendo dal passato, possono essere proiettate nel futuro e trasformate all'interno dell'impresa 4.0. Nel 1938 nella Val di Chiana a Retina la produzione annua di canapa da Tiglera di 1.740 quintali, dalla quale dopo la macerazione e la sfilatura si ricavava l'omonima fibra tessile. Oltre 92.000 invece i quintali di foglie di gelso raccolte ed utilizzate nelle tre filiere sediche esistenti nella provincia di Arezzo. Abbiamo itinerato verso il territorio della Val di Chiana cercando di riscoprire appunto il valore della canapa e della seta che proprio in quei territori erano coltivati diventando e facendo una bella economia con la produzione appunto della seta e della canapa e riscoprendo appunto queste antiche ricchezze che abbiamo svolto nel nostro territorio cerchiamo di dare degli spunti e ricreare lavori per i giovani. Anche per questa edizione infine è previsto un concorso di idee sul tema il filo di sete e la canapa tra scuole e mondo del lavoro. I modelli, gioielli ed accessori che saranno premiati con alcune borse di studio saranno poi esposti dal 31 ottobre al 28 novembre al Museo Mike di Cortona.